Non si tocca Kata Sì sì infatti è quello che intendevo È esattamente quello che intendevo Non toccatela Allora qua abbiamo Spammare Startiamo di goccia Che ci fa comodo No startiamo con questo No Christian Non conosco Mi dai ragione per studiare Come si sposi Disciplina Se riesci A fare una cosa talmente inutile Inutile no perché cool Però talmente noiosa Come studiare per essi sposi Potrei fare tante cose nella vita La scuola non vi insegna Il lavoro La scuola vi insegna La disciplina In teoria Uno dice Ma che mi servirà nella vita I permessi sposi Assolutamente a niente Ma la vita non è fatta Solo di cose utili Così Così Comunque Sdong Ah Yorick Non bellissimo matchup Ma Ce lo faccio andare bene Io ho tirato 3Q Più il Più l'aftershock E lui mi ha tolto più vita Come Sto già finendo il mana Era meglio strattare con Un ring Sì Era assolutamente meglio Il doranz ring Vabbè Vabbè Tanto poi ci prendiamo la goccia Oh ma chi sei In bocelli Ok Molto entusiasmante Sto match Vabbè Contro Yorick Funziona così Purtroppo Questo mi dà 15 Ability Haste E il fatto Sapete qual è il problema Che fare un pick full Ability Haste Non è semplicemente Prendi gli oggetti Che hanno più Ability Haste E basta Perché Se non prendi mana Giochi 5 secondi Spammi le spell E hai finito di giocare Quindi Diciamo che Devi anche riuscire a A prendere quelli giù Tipo il Frozen Heart Ci aiuta Ci dà 20 Magari Dite Eh Fieri Ma ci sono oggetti Tipo Dove è sto cesso qua Che dà 25 Sì ma questo cesso qua Che dà 25 Non serve a nulla Faccio schifo E perdiamo E non mi diverto Perché Poi non c'ho mana E E finisco su E Dodge Incredibile abilità Di schivata ragazzi Ho pezzo di merda Ok Sei lì Ok Disturbato Azione di disturbo Eseguita Con successo Attenzione Vabbè Mi ha messo nel gabbio Ragazzi Se pensi Te lascia Andar via Così Non hai capito Niente Che c'è Non si va più Back? Cosa è successo? Non si va più Back? Che Peccato Ma Che Che passo Felpato Ragazzi Avete visto Che dodge Sto tirando Ottimo gank Eh Muore Mamma Mi è rimasto Con pochissimo Ragazzi Ma tipo 2 HP Sarà rimasto Proprio Ingiustizia Nel mondo Questa Proprio Ingiustizia Ragazzi Si Back Ok Ciao Poseidon Rune Eccole Subito Da te Voilà Onks Queste qua Ecco la comet È un discepolo Ma c'è qualcuno Che lo gioca seriamente A me non piace A me personalmente Non piace Cos'è fatto Pratici Sorpresa Lo scoprirete Ragazzi Comunque Grazie mille Gian Fonzi Per il sub Lei è molto Molto Davvero Gentile Moltissimo Guarda Guarda Stiamo combinandoli Aspiriamo Aspiriamo Si può ammazzare Quell'affare Lì Ok Tipo Una seconda Versione Di Laoi Titano Di E tu Perdi vita A caso Non devi Neanche Saper giocare Tu Perdi vita Così Per sport Ok Però almeno Non vince L'1v2 Tirando i pugni Sulla tastiera Dai Questo bisogna Dargli Che ne è atto Meglio Meglio Scusate Yorick Non Devo dire Yorick Però arrivo Dosef Dostar Dix Cento Questa sera Al TG5 Che cosa ha fatto Fieric In Francia Restate con noi Per sapere La risposta Ne varrà la pena Ragazzi Ne varrà la pena Ne varrà la pena Maxi V Grazie Dose Stavo andato a protestare Sì sì Ho fatto Una rivoluzione Insieme ai parigini Scusi Beh le vise Tra tutti quelli Che ho detto Penso che Renekton Le taiti Sia quello Un po' più Solido Tra tu L'ho mangiata La baguette Sì 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 Non abbiamo bruciato Banca Guardate che bella Foto ho fatto Su Instagram Però ragazzi Guardate che bella Foto ho fatto Su Instagram Cazzo È più professionale Di tutte le foto Che abbia mai fatto In tutta la mia vita Dodge Ecco qua Protetto Protetto il Gromp Eh Ho doggiato Il saltino Non è male Sta così Maokai Che riesce A doggiare Il saltino Sapete Dei Con la W Oppure direttamente Lei Max Per evitare Il push Max Non eviti Proprio niente Ok Ma sta perdendo I trade Letteralmente Mi fai perdere Un trade Con Yorick Ok Comunque Era mille volte Meglio Il TP Però purtroppo Bec C'abbiamo questa È molto debole In realtà Anche perché L'hanno nerfata E L'hanno nerfata Un sacco di volte Adesso Addirittura Ok Magics Cold Reduce Ok Splishing brush Supply Last Ok Rampage Eh sì È che L'hanno nerfato Eh Dodge Incredibile Ora Dov'è Yorick È proprio lì dentro Vedete Non fa più I tre scoppi Ragazzi L'hanno proprio Distrutta Lady Maokai Adesso Ma che pizza Ragazzi Sta becca Questo Ridendo E scherzando Vedete Non fa più Tre scopi Non riesci A fare Nulla Contro il minion Ah sì Ok Il Maokai Signori L'incredibile Albero L'albero Della Muerte Comunque Penso che andare Di comet Sarebbe stato Addirittura Meglio Tanto 12 a 5 Ovviamente Ragazzi Ovviamente Al Romics No non ci sarò Romics Fiera fallita Unlucky Cooldown Io dovevo fare Maokai Full cdr Però non so Se riuscirò A farcela Ragazzi E quando faccio I pick O full cdr O full hp I miei teammates Trombano Gli avversari So perché Ti stai preparando Per la prima vittoria Io sono pronto Da tre mesi È il pardons Che non lo è No però si fa Si fa A giugno Mi sa che abbiamo Registrato La prima clip Si A giugno Ragazzi Io però devo Tire giù la torre Siamo a un prossimo video Roar Tigrotti Mi dispiace Dovrò ucciderlo Ok Cioè mi dispiace Uccidere così Poi non posso Andare a fk Io perché Lo è lui Se se ne va Meglio Bella No di bench Come stai Caro Che sta succedendo lì Vedo già Due livelli di differenza Tra i jungle Già capisci Com'è la situazione E già capisci Com'è la situazione E già lo capisci Utile Così La torre cede meglio Cazzo Avessi hittato E Incredibile Giocata Vabbè ragazzi Già capito Che Qua Di full cdr Non facciamo proprio niente No Ah meglio 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 Easy Easy Vorrei dire Faster e Call Ma con 35 secondi Di Cooldown Di Respawn No Però Non abbiamo dato la kill Guardiamo il lato positivo Ok full 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 due oggetti Erkinatown Cirdix 500 Bentornato Ricco Ciao Ciao Ma scusa Ma perché in Francia Avrei dovuto farlo Cioè Non ho capito il nesso Non ho capito Perché andare fino a Parigi Per farlo Lo slow Recall Sì esatto Baguette era buona Era buona Ragazzi Alla fine è pane Non è che lo fanno Particolarmente diverso Dalle baguette Che compri qua In cui non si perdevano Le piene Ranked Minchia Ma male che non ci sono state Poi gli account salgono troppo Ragazzi Non va bene Tanto qua Il nostro amico è scomparso Ma non lo biasimo Vessi contro un albero così forte Ovviamente me la darei anch'io a Gumb Eh è nato mid giustamente Eh che gli vuoi dire Oh Finalmente Ma guarda chi c'è Eh Ragazzi Sono così forte Che sono Maokai Oddio Oh L'ho detto eh Questi due buchi Non è sempre Si inchilano le cose dentro Oh tu macio Ok Stavo per dire Sono così forse Che bullizzo Maokai E Yorick Però effettivamente Ho perso metà vita Per togliere la torre Va bene lo stesso Ragazzi Va assolutamente bene lo stesso Cioè facciamo questo adesso Limit testing Sì Sì Facciamo che era un po' too much Poi con una build E l'ero una cazzo di cane Cioè l'aftershock tipo Non serve a niente Perché non c'ho resistenze Ora però piano piano Oh Vendicato Vendicato Però Ora è peggio Ma tanto con la goccia Ragazzi Mi Mi dovrei Oh Le Sparizino Mi dovrei fare il manamune Perché Ma è In realtà Fanno tutti cacare Adesso per l'ability haste Perché l'archangel staff Da soltanto L'archangel staff Da soltanto 10 L'ability haste Tuk Cioè diciamo che la goccia Per l'ability che faccio io Non serve a nulla Però tipo Se mi facessi la shojin Con la shojin Avrebbe senso Farsi il muramana Perché più di hai Più ability haste prendi Capito Quindi con la shojin Avrebbe senso E col demolish Ma non c'ho HP Vabbè Pochi No Zero Vero non ha più HP Sto cosa Non ho proprio HP Questa è tutta madre natura Gli HP che c'ho Ma ha tirato la bombetta Ma è pazzo Ah vai Tirano le piantine Raga andateci voi Devo dire Stong Credo che la ulti Non c'era O almeno L'impressione che ho avuto Ok Inizio già ad avere un po' di Un po' di ability haste qua Non tantissima Ma un pochino Si Occhio che il moco È cattivissimo Scappa E Ci prendiamo pure Il Grom Lol La killavo Perché avevo di nuovo Allo W Però Ha fatto ridere Che è arrivato E l'ha dato di oggetto Vai Jean Vai Ce la fai È tua È tua Ok Dicevamo Olè Questo Un po' Too much Questo Aspark Grazie mille Del sub Molto gentile Andiamo a rubare Anche questo Blue buff No dai Ce l'ho già Andiamo direttamente Top Allora 141 Ability haste Ragazzi Due secondi E la Q 370 W E Questo No Questo non si abbassi Collando e maxandolo Traumatizzato Traumatizzato Minchia Avete già lo spam Che inizia ad esserci Tuck Sto avvenendo il mio smurf Sono convinto a fare I miei Giocando con lo smurf Trovi più partite Bilanciate Che non sono più Del main Ma è sempre così È il motivo Per il quale La gente smarfa Ragazzi Io l'ho sempre detto Ho detto Una volta Non andava così Di modo a smarfare Ma non perché Fieric fai troll Picking iron E quindi E quindi Boh Questa Penso E potermi killare Io non capisco Kawabonga Niente Ha messo il muro Se no la prendeva Shit È iniziato a essere un po' Tancoso Secondo me ragazzi Sapete Devo farmi questo 136 Dicevo Una volta Non andava così Tanto di moda A smarfare Ma per un semplice motivo Perché la solo queue Era qualitativamente Migliore E quindi la gente Si divertiva Su proprio Si divertiva A competere A salire E così Invece Quando la gente È tiltata Ma vuole comunque Giocare l'ol Cosa fa Va sullo smart Perché ti toglie Il peso di dire Ma tanto non è Il mio account principale Gioco un po' Più in basso Un account Ti come ne frega Relativamente meno Quindi Sti cazzi E quello È più pieno Di smarf adesso Non perché va di moda Fare i troll pick in iron Che faccio Io li faccio Da otto anni Li faccio Vedi parli di antiquariato E si presenta il dinosaurio È arrivato gizzi Vedi Come stai Che i pigi dovrebbero essere Vrebbero essere Mocha e full ability haste Infatti siamo 136 Ma le normal Non vengono considerate Perché le normal Fanno schifo ragazzi Cioè le normal Ci stanno Io Tutte le volte Che spari in normal Io faccio sempre L'esempio Il mio account Bronzo 4 E Dove ho fatto normal E l'ho beccato Contro me Un challenger Zed E io stavo Provando cassa Di mid lane Per cui ho detto Boh faccio normal Tanto Io sto nell'umido Ma è Sono stati in Francia Gizzi È stata un'esperienza Le rune Le rune Ma certo Eccole qua No chance With this team Allora come Lancia il sasso E nasconde la mano Il pezzente È piaciuta Parigi Ma allora Non sono andato In realtà Proprio a fare il turista Però non voglio ancora Spoilerare cosa faccio Parigi Diciamo esteticamente Esteticamente Nel senso Che è bello Diciamo È un bel impatto Ecco Attenzione Attenzione E Non riesco a muovermi Ragazzi Cosa sta succedendo Oh L'Ability S Del Mokai Guarda come Spambo le spell Mamma mia Ho usato la W Un sacco di volte Ragazzi Mo si arrendono Ovviamente Mo si arrendono Quante volte ho usato Sta W Che bello È la Q Grande Gizzi Ma poi sei tornato In Italia Vero Siccome per concludere Aspetta che ci vorrebbe Tanto non ce la facciamo Buildare La zona finale Ma tanto chiudono Magari non adesso A breve Hai fatto benissimo Infatti mi ricordavo Che tu vivevi in Francia Attenzione L'inseguimento Attenzione L'inseguimento Quasi Tanto a 30 secondi Ce l'ho di nuovo Su account platino Aversario C'erano schifo Livello bronzo Certo Stima di rank Sede di rivedere Assolutamente sì Assolutamente sì Hanno combinato Troppi casini ormai Hanno sminchiato Troppo L'MMR Cioè Ci sono account Totalmente rovinati Hanno un algoritmo Che fa schifo L'algoritmo Che ti calcola I punti In base a quanto Prendi Quanto Prendi Fa veramente schifo Infatti trovi account Totalmente rovinati Quelli che fanno No più 13 Meno 30 A caso Attenzione Ci vediamo A un prossimo video Roar Che grotto Oh Bravissimo Guardate Spammando l'abilità Avete anche Avete prima La passiva E vi curate di più Tuk Huge team Diff Lo sapevo Che ci credeva Lo sapevo Che ci credeva Parte l'engage Attenzione 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 È bloccata Q Attenzione Cosa? Ma Mi ha fatto saltare Mentre ero in zonia Ragazzi Avete visto? Mi ha fatto saltare Mentre ero in zonia Bellissimo Non l'avevo mai vista Sta interazione Grazie Il cazzo Per il sub Oh Uomo di cultura Ragazzi Mi viene il sub Signor cazzo Onora Perché ci vogliono Le palle Giocheremo Uomo support Mi piace Mi piace Tutto bene Saccupen Ogni incubi Quando penso A quanto Io giocavavo Ma quante Giocavamo